Aumenta la sicurezza delle banche italiane e degli altri comparti maggiormente esposti al fenomeno delle rapine. Nel biegno 2015-2016 le rapine totali denunciate dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria sono diminuite di 15.000 casi rispetto al biegno precedente, pari ad un calo del 18%. Il trend positivo ha caratterizzato tutti i comparti, a cominciare dal settore bancario. Queste le principali anticipazioni del rapporto intersettoriale OSSIF sulla criminalità predatoria, messo a punto nell'ambito dell'osservatorio intersettoriale avviato da OSSIF, il centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine. Tra i motivi del positivo calo delle rapine in banca si segnalano i continui investimenti delle banche italiane. Ogni anno vengono destinati in media oltre 600 milioni di euro per rendere le filiali più protette e sicure. Inoltre è ancora più stretta la collaborazione con le forze dell'ordine, sancita dalla stipula di un protocollo anticrimine operativo su quasi tutto il territorio nazionale.